Io voglio sapere quanti di voi non hanno dormito stanotte per colpa del doppio assist di Kostic. È vero? L'abbiamo visto ieri sera in live, quanti di voi hanno rosicato per quell'assist, quanti invece hanno gioito? Canta consigli per la venticinquesima giornata. Allora, voi potete capire che per un fanta youtuber come me, che lo sapete sono romanista, cerco sempre di essere obiettivo, ma molto spesso non ci riesco, soprattutto in questa giornata, dopo la chiusura della ventiquattresima giornata di ieri, dove la Roma è scomparsa, la Juventus è risorta e c'è Roma-Juve. Tenterò ad essere il più obiettivo possibile, di non farmi prendere dall'emotività, speriamo di riuscirci. Allora, 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 giornata molto interessante, ci sono partite molto difficili da analizzare. Prima di iniziare vi ricordo di scaricare l'app di OneFootball, dal link qui sotto in descrizione, che parla di calcio a 360 gradi, con tanti kick, perché 360 gradi, 360 gradi dovrebbe essere così? Non così, non lo so perché, con tante kick e tante curiosità, le formazioni personalizzabili al 100%, perché lo sapete, potete inserire nella stellina dei preferiti, eh, tutta quanta la vostra fanta rosa, restare così aggiornati in tempo reale sulle statistiche dei vostri giocatori della vostra fanta rosa, e quindi la mattina andate in bagno, aprite l'app di OneFootball, non guardate tutte quante le notizie dell'universo, guardate soltanto le notizie che vi interessano, e pensate quant'è godurioso la mattina, quando hai quei 10 minuti di cacca da fare, non dover scorrere le notizie, ma sapere proprio dove andare a pescare. Avete un giornale praticamente fatto su misura per voi, la scaricate gratuitamente dal link qui sotto in descrizione, che è in modo molto carino di supportare questo canale, cioè vi faccio capire, Arnautovic, no? Non dovete andare a fare Arnautovic, oppure cercare su Google Arnautovic, voi aprite OneFootball e guardate un pelaggio, Arnautovic, come lo schiero, subito in tempo reale, ve la scaricate gratuitamente per supportare questo canale, come un modo molto carino, e qua ciccia l'asino, di supportare questo canale, quello di acquistare le magliette da calciostore24.com, il negozio online di magliette sportive più belle ed economiche del web, perché ora sto gongolando, perché questa settimana ho deciso nella live di venerdì ore 19.30 di regalare agli abbonati, gentilmente offerta da calciostore24.com, la maglietta della Juventus, ed eccoci qua, prima di Roma Juventus, a mo' di scaramanzia, ovviamente, per tutti quanti gli abbonati, ma io non voglio la maglia della Juventus, è così il canale, è così, perché no, perché non vi regalare la maglia della Air Jordan, perché no, vi regalare la maglietta della Juventus, ovviamente, se qualora la voleste invece acquistare, la potete acquistare da calciostore24.com a meno di 30 euro, e se inserite il codice sconto LC, avrete un ulteriore sconto del 10% sul prezzo d'acquisto già basso, non c'è solo la maglietta della Juventus, ci sono tutte le magliette della Stratosfera, ci sono magliette anche molto belle, le Special Edition, soprattutto vi ricordo la maglietta storica, quella del Spider-Man, del Paris Saint-Germain, che è andata a Roma, praticamente avete comprato tutti solo quella, e quella veramente è bellissima, e vabbè, questa, insomma, la metto in palio venerdì sera per gli abbonati, ora qua sotto i commenti, la voglio mai a Juventus, è così, ragazzi, perché c'è Roma a Juventus, vabbè, dai, che devo dire? Ah, poi, ovviamente, la maglietta è solo per gli abbonati, quindi abbonatevi a tutti quelli abbonati si disabbonano, no, no, perché se la vincente potete anche dire non la voglio, oppure potete dire ne voglio due, vabbè, abbonatevi solo 99 centesimi al mese per entrare nel magico mondo della chat Telegram dedicata agli abbonati, dove questa settimana, ragazzi, andrò a postare, come richiesto appunto da voi abbonati, i risultati esatti delle partite per fare quel giochino che ho fatto questa settimana di scommettere i risultati esatti, dove basta che ne prendi uno e non perdi, se ne prendi due, vinci, se ne prendi dieci, sbanchi, e andremo a vedere un pochino se funziona questo gioco, e poi questa settimana ci vado anche a postare la regola del 72 per tutte quante le formazioni, perché non ho fatto in tempo, visto che hanno chiuso le partite ieri, la giornata si è chiusa ieri, oggi ho dovuto fare lo studio ogni giornata, non sono riuscito a fare proprio tutte quante le grafiche, però la regola del 72 ci sono riuscito a farla, ed eccoci qua, eccola qua, iniziamo, gentilmente offerta da stafantacalcio.net, lo sapete, allora il migliore portiere del mese a Skorupski, Fanta Media del 6-38 nelle ultime quattro partite, ha giocato veramente bene, ma come lui tutto quanto il Bologna, ha seguito da Tatarusano, Meret del Napoli, poi Onana dell'Inter, Sepe, Falcone, Provedeldi, Gregorio, Scesni e Consigli, e è scomparso lui Patrizio per bacco. Difensore, il migliore spinazzola della Roma, Fanta Media del 9, è tornato, grande spina, lo spina dell'Europeo, poi Bremer della Juventus, vedete che vi avevo detto, gente che voleva vendere Bremer, prendetelo Bremer, fate come me che l'ho preso a ricostra, da Bremer, visto quello che è successo, Baschirotto del Lecce, ancora un altro dei miei cantaconsigli d'agosto, Fanta Media del 7-38, che questa giornata non ci sarà, vi ricordo è squalificato, Danilo della Juventus, Valeri, Biraghi, Posh, Singo, Udoji e Bijol, centrocampisti, il migliore ancora, Varaskelia del Napoli, 9-75, seguito da Orsolini del Bologna, che vi dico, schieratelo sempre anche questa giornata, ho detto schieratelo, ma con l'Inter, schieratelo, infatti visto, poi Messias del Milan, Tancostic, Pereira, Rabiot, Vignato, Castanos, Soriano e Candreva, e poi gli attaccanti, quelli che poi alla fine ci fanno vincere i fantacalci, oggi ho sto gesto qua, non si sa perché, non so, di Giukas Casella, chi è, Osimen del Napoli, Fanta Media del 10-88, seguito da Anzola dello Spezia, Cambiaghi dell'Empoli, Cabral della Fiorentina, Di Bala, Di Maria, Saju, Vlaovic, Sisè, e a chiudere, Caramò del Torino. Io sono molto contento di questa cosa, perché, come vedete, molti dei miei consigli, delle mie sorprese di agosto, stanno in queste classifiche, come ad esempio, appunto, Baschirotto, come ad esempio Rabiot, e come ad esempio un Balanzola, e ne sono molto contento. Quest'anno i cantaconsigli sono andati veramente, veramente bene. E allora andiamo a vedere, in base a questi cantaconsigli, gli abbonati, cosa hanno fatto nel fantabbonati, la ciurma del canta, ed eccoci qua. Chi ha vinto questa giornata? L'ha vinta Cosimo Santos, con Acer, se può fare pubblicità, non lo so, Acer, a me non credo sia Acer, sia quelli dei computer, che ha fatto 80.50 di punteggio, tanto, tanto punteggio in questa giornata molto strana, seguito da Sviluppini, PS2, PSV, Endovena, benissimo, e via via, fino ad arrivare a Piemonte Calcio, 72 di fantabete, io non sono arrivato a 66, infatti ne va a giovare la classifica generale, dove perdo un punto, vado al diciassettesimo, e continua a dominare il Kito 98, con Baschirotto Team, con 1255.50 punti, mi ha dato praticamente più di 60 punti, complimenti a il Kito, e andiamo ad iniziare a guardare le partite di questa giornata, ed iniziamo da Napoli-Lazio. Allora, guardando i dati delle due squadre, sinceramente non ciccia fuori il gol, dici, il Napoli è uno schiacciasassi, la Lazio non vive il suo momento di forma più esaltante, e in più mancherà sicuramente Casale squalificato e Romagnoli non sappiamo, oggi così, ma Romagnoli non sappiamo se c'è, quindi partita da 18 a 0. Napoli molto forte nell'attaccare sui calci piazzati, molto forte nell'attaccare sulle fasce, molto forte nel difendere sui calci piazzati, molto forte nella giocata individuale, squadra molto forte, lo sappiamo in tutto praticamente, Lazio molto forte nei passaggi filtranti, devono difendersi dai contropiedi, attacchi da sinistra forte, così come sulle giocate individuali, come vedete, dati che non ci azzeccano niente uno con l'altro, tra l'altro uno penserebbe una partita nella quale se il Napoli solitamente spalletti ogni tanto la partita dell'impazzimento durante l'anno ce l'ha, con la Lazio un pareggio ci va tranquillissimo più 100.000 chi se ne frega, la Lazio un bel pareggio col Napoli, chi se ne frega, partita che va tendenzialmente verso il pareggio, se non che il Napoli non lascia proprio niente agli altri, vuole proprio distruggere il campionato, e quindi attenzione ho messo come giocatore più rappresentativo del Napoli Meret, ho messo, perché secondo me la Lazio potrebbe arrivare al tiro, pochi tiri e Meret potrebbe fare la differenza, uno dei migliori portieri del campionato ogni mese abbiamo visto, per quanto riguarda la Lazio ho messo Felipe Anderson, perché? Perché mancherà Mario Ruiz qualificato per due giornate e su quella faccia è vero che la Lazio attacca da sinistra, questa volta secondo me attaccherà molto dalla destra sfruttando la non eccezionale capacità difensiva di Oliveira e partita ragazzi molto 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 strana oggi ho giunto nelle grafiche andiamo avanti a vedere le partite dei giocatori per il dettaglio le quote parlano perché? perché appunto visto che per gli abbonati ci sarà questa chicca in più ogni settimana da oggi di andare a guardare le quote per scommettere sul risultato esatto delle partite le quote parlano dicono vittoria del Napoli partita da over 2,5 non mi trovano d'accordissimo per quanto riguarda l'over 2,5 sulla vittoria del Napoli secondo me ci stiamo dicevo squalificato Mario Rui infortunato Raspadori per la Lazio squalificato Casale infortunato Pedro col telnaso è sfasciata anche la mano ora non so con quante protezioni giocherà Porino adesso spero vivamente che stia a casa a recuperare fa anche un po' tenerezza Pedro dicevo Lazio con la coppia centrale Gila Patrick dovrebbe forse recuperare Romagnoli spero per la Lazio per Bacco che recuperi Romagnoli la coppia Gila Patrick non la porterei veramente mai da nessuna parte e dunque Gila e Patrick li eviterei per quanto riguarda Romagnoli ritorno adesso all'infortunio magari diamogli non mettiamolo subito nella mischia così a cuor leggero la Lazio abbiamo visto che è deboli nel difendersi dai contropiedi quello che penso io è che se la Lazio a cui basta un pareggio un pareggio e oro che cola veramente a Napoli prende i gol in contropiede veramente ci sarebbe da chiedersi qualcosina per quanto riguarda Sarri ovviamente se poi il Napoli passa in vantaggio e la Lazio deve spingere per forza a trovare il pareggio e poi il gol in contropiede lo può prendere quindi attenzione invece a questo caso qua abbiamo già parlato di Anderson che secondo me è più schierabile di Zaccagni anche perché se guardiamo la fantamera di Zaccagni in quest'ultimo mese è 5,67 non è che abbia fatto benissimo in quest'ultimo mese vabbè per il resto ragazzi Napoli schierabile tutto quanto in toto perché il Napoli praticamente parte da mezzo punto in più abbiamo visto il 7,5 all'ubotca di questa giornata che perbacco è vero che ha annientato il centrocampo dell'Empoli ma era il centrocampo di riserva non c'erano bandirelli non c'erano ACPAC Pro e più ricordavolo che ha preso il 7,5 come Messica ha vinto lo scudetto da solo praticamente nella partita contro il Marsiglia quindi vediamo che un po' che i voti del Napoli di quest'anno sono abbastanza diciamo farfallini e quindi il Napoli dovrebbe schierarlo tutto ovviamente ecco se proprio devo mettere qualche giocatore in giallino proprio per non dire non hai fatto niente l'hai messi tutto in verde Zambanghiza Zelinski che non ha vissuto un mese fantastico 5,75 di fantamedia Politano potreste pensare di schierarlo ma Napoli-Lazio vedremo domani su Instagram Lorenzo Cantarini official che è una partita da rigori quindi potreste pensare di schierare anche Politano per la Lazio direi di schierare da Felipe Anderson a Milenkoissavic a Zaccagni a Immobile anche perché è partita appunto da rigori quindi Immobile potreste pensare di schierarlo Luiz Alberto Luiz Alberto sinceramente giocatore che soffre i centrocampi fisici quindi Zambanghiza Lobotka per bacco se non è un centrocampo fisico non vi dicono schieratelo ma non è la mia prima scelta anche perché questo mese nonostante il gol 5,75 di fantamedia non è che sia il suo mese migliore vabbè dai partita che poi andremo ad analizzare meglio venerdì alle ore 19.30 nella cantana del pre partita perché lì avremo le formazioni ufficiali appunto dell'anticipo della serie A Monza Empoli Monza forte sui calci piazzati Empoli deboli nel difendere sui calci piazzati quindi gol sul calcio piazzato del Monza che ci sta Monza forte nei passaggi filtranti Empoli che è forte nei calci piazzati ma le due squadre non sono deboli in questi fondamentali dall'altra parte possesso palla che dovrebbe sorridere al Monza perché l'Empoli non è che sia una squadra da possesso palla attenzione al Monza che è debole nell'evitare errori individuali Empoli che è debole nei duelli aerei allora ho messo come giocatori più rappresentativi Petagna da una parte che potrebbe sfruttare appunto un calcio piazzato sfruttando la debolezza nei duelli aerei dell'Empoli e Vicario dall'altra parte perché secondo me deve riscattarsi dalla prestazione opaca contro il Napoli andiamo a vedere i giocatori più nel dettaglio ed eccoci qua allora difesa del Monza che teoricamente dovrebbe essere tranquilla anche se vediamo le fantamedie nell'ultimo mese non è che abbiano fatto benissimo Marì 5,75 Izzo 5,50 Varlo 5,67 e via 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 se proprio dovessi sceglierne uno sceglierei Marì rispetto a Izzo e Marlon o Caldirola preferisco scegliere il centrale portieri Di Gregorio non sappiamo sinceramente al momento chi giochi molto meglio di Cragno secondo me in questo mese oddio se gioca Cragno lo schieriamo qualche dubbio in più sinceramente ce l'ho allora Carlos Augusto lo schiererei Pessina lo schiererei per i calci piazzati così come schiererei Sensi per i calci piazzati do ancora fiducia a Ciurria anche se questo mese ha fatto poco niente soprattutto visto che molti l'hanno preso al mercato di riparazione di Gregorio avevo preso Ciurria spondava il campionato fino a un mese fa adesso è scomparso vero gli ridò fiducia inizio a perdere invece la fiducia con Caprari che è ritornato quello di qualche mese fa invece fantamedia del 5,63 dunque mettetelo in ballottaggio non schieratelo così tanto a cuor leggero può segnare in tutti i modi in cui va in difficoltà l'Empoli difesa dell'Empoli che non dovrebbe prendere l'imbarcata però anche la difesa dell'Empoli sinceramente non è che abbia fatto benissimo questo mese anzi ha fatto molto molto male guardate un po' le fantamedie sinceramente a parte i Buei non c'è un giocatore che andrea a schierare ma anche i Buei non è che abbia fatto benissimo possiamo schierare Marin per un eventuale calcio piazzato abbiamo visto che l'Empoli è forte nei calci piazzati magari potrebbe trovare un gol su quel fondamentale lì anche se ripeto il Monza di gol su calcio piazzato non è che ne prenda tantissimi anche Baldanzi potrebbe essere schierabile solitamente le partite con le medio-piccole non le sbaglia attacco in cui non vedo i gol dell'Empoli sinceramente dunque Caputo l'ho messo in giallino perché magari un rigore per l'Empoli potrebbe calciarlo lui ma anticipo arbitra Feliciani che di rigore non ne dà e quindi Caputo mettetelo al massimo in ballottaggio le quote parlano vittoria a Monza under 2 e mezzo e qua mi trovano d'accordo sinceramente per il mondo non ci sarà Donalti squalificato Rovella infortunato per l'Empoli infortunati Cambiaghi e destro quando torna destro Atalanta Udinese Atalanta forte nell'attaccare sulle fasce lo sappiamo Udinese debone nel difendersi attacchi sulle fasce quindi gol sulle fasce da parte l'Atalanta che sembra scritto Atalanta forte nelle giocate individuali Udinese debone nel difendersi da passaggi filtranti e questo giochino l'Atalanta lo fa con l'esterno che dà la palla in mezzo per il centroavanti per Oilund fondamentalmente e l'Udinese queste cose le soffre abbiamo visto quanto ha sofferto Zola per Bacco nella partita difendersi dagli attacchi sulle fasce quindi attenzione alle fasce dell'Udinese dove l'Udinese sulle fasce non è che sia l'Udinese gli scorsi anni ma comunque è ritornata a spingere abbastanza bene Udinese forte in contropiede e forte sui calci piazzati che però non trova nell'altra controparte una debolezza giocatori più rappresentativi Oilund a sto giro l'ho messo per quanto riguarda l'Atalanta per quanto riguarda l'Udinese ho messo Toven fino adesso ha un pochino deluso Dio resta sempre attorno al 6 prestazioni tutto sommato discrete non eccezionali magari in questa partita allargandosi magari sulla fascia potrebbe creare dei disturbi all'Atalanta magari giocando un pochino come ha giocato Messias appunto per quanto riguarda la scorsa partita andiamo a vedere i giocatori più nel dettaglio quindi dicevamo fasce Atalanta da schierare quindi Zappacosta Maele Lukman Bugà da schierare tutte quante per quanto riguarda quindi la difesa dell'Udinese preferirei che schierasse il centrale Bijol piuttosto che Braccetti Becao e Perez schiererei anche Cup Miners per un eventuale tiro da lontano abbiamo già parlato di Oilund potrebbe essere quello che è stato un Zola per lo Spezia la scorsa partita vedo un paio di gol presi dall'Udinese quindi Silvestri non lo schiererei molto meglio secondo me schierare Musso già detto eviterei i Braccetti difensivi per il resto regola del 72 Udoji Pereira e Lovric sì Beto e Samarzic nì di Toven ne abbiamo parlato eviterei Sax e Sarzan Wallace e per quanto riguarda l'Atalanta eviterei Ederson Deron e Pasalic che dovrebbe ritornare in questa partita per l'Atalanta mancherà soltanto Fiorentina devono nel difendersi di attacchi sulle fasce Milan forte per quanto riguarda gli attacchi sulle fasce Fiorentina devono nell'evitare errori individuali Milan forte nelle giocate individuali Fiorentina forte nei calci piazzati Milan però che è forte nei due LR e Fiorentina che è forte nel difendersi sui calci piazzati il Milan è devono nel difendersi di attacchi sulle fasce dunque viene fuori 1-0 a 2 Milan ma appunto attenzione ai rigori in questa partita che potrebbero confermare o ribaltare il risultato cheat per quanto riguarda i giocatori più rappresentativi ho messo Cabral che è in una forma strepitosa per quanto riguarda il Milan ho messo Messias perché? perché appunto per quanto riguarda gli attacchi sulle fasce in questo momento Messias tanta 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 roba e dall'altra parte non ci sarà Leao giocatore fino al dettaglio Leao infatti come vedete è squalificato al pari di Kroonic per la Fiorentina Milenkovic è in dubbio più no che sì gol del Milan sulle fasce quindi consigliati Teo Hernández consigliato Messias dunque eviterei Dodò e anche il Super Miraghi Super 7 e mezzo dal Super Gol da centrocampo vabbè eventuale gol della Fiorentina sul calcio piazzato non di testa ma di mischia secondo me vedo come è possibile i giocatori da schierare dunque Saponara per quanto riguarda il calcio piazzato e Cabral per quanto riguarda il gol di mischia in questo momento Cabral ha una cattiveria assurda mi gasa mi gasa mi gasa per quanto riguarda Nico González sarà una partita da rigori giocatore che in questo mese ha una fanta media molto brutta per essere un attaccante schieratelo ma non come sì questa giornata Nico González poi gli altri cioè mettetelo in ballottaggio portieri Terracciano no perché due gol li prende ma Ignan sì difesa meglio della Fiorentina per me meglio i centrali che gli esterni l'ho già detto difesa del Milan Calulo e Kier attenzione forse meglio Tio e Tomori centrocampo dove per quanto riguarda la Fiorentina svetta Saponaro per quanto riguarda il Milan svetta Messias gli altri mettete al massimo in ballottaggio attacco di quello della Fiorentina ne abbiamo parlato eviterei Jovic eviterei Brekalo eviterei Quame per quanto riguarda quello del Milan sì Giroud Ni Origi attenzione a Rebic che secondo me gioca molto meglio da seconda punta come gioca adesso Leao appunto essendo il sostituto di Leao Rebic in questa partita rispetto a quando lo gioca esterno sinistro come sostituto di Leao appunto e soprattutto un occhio di riguardo a Ibra perché appunto arbitra di Bello l'arbitro che dà un botto di rigori l'arbitro che dà più rigori di questa giornata qualora ci fosse Ibra in campo qualora ci fosse un rigore per il Milan secondo voi chi lo calcerebbe? Dai Gesù Spezia Verona Spezia forte nelle giocate individuali Verona debola nell'evitare errori individuali Spezia debola in difendere sui tiri da lontano Verona forte sui tiri da lontano Spezia debola in difendersi sui calci piazzati a Verona forte nei duelli aerei non è forte sui calci piazzati ma nei duelli aerei dunque il calcio piazzato calciato bene nell'area dello Spezia potrebbe portare all'1 a 2 attenzione Spezia debola in difendersi dai contropiedi Verona debola in difendersi d'attacchi sulle fasce e questo va a tutta la differenza del mondo Verona in vantaggio Spezia deve andare a recuperare il risultato Verona che parte in contropiedi Spezia che va in vantaggio Verona deve recuperare il risultato Spezia che parte sulle fasce cross in mezzo Penzola che in questo momento è super in forma infatti ha messo Zola come giocatore più rappresentativo dello Spezia in questa partita il Lasovic per quanto riguarda il Verona perché? perché lo Spezia ha sofferto molto Pereira nella partita con l'Udinese Pereira che è un esterno che si accentra molto in questo momento gioca addirittura come centrale e è lo stesso percorso che ha fatto Lasovic se ci pensate dunque Lasovic potrebbe rompere un pochino le balle a questo Spezia andiamo a vedere più nel dettaglio appunto parlavamo di Lasovic che è un giocatore che ha un modo di giocare molto simile a quello di Pereira fantamere del set in questo mese dunque assolutamente schierabile prevede un 1-1 quindi non prevede il clean sheet né per Drogoschi né per Montipò ma non prevede una partita da goleato infatti le quote parlano parlano anche loro di un X con Under 2,5 quindi potreste pensare di schierare sia Drogoschi sia Montipò attenzione a Yen per quanto riguarda la difesa del Verona che se leverà con questo Mzolà e in questo mese non è che abbia una fantamedia strepitosa 5,50 quindi eviterei almeno in questa partita di schierarlo così come Burabia e Dektal che non hanno una fantamedia mostruosa sotto al 6 tutti e due non portano mai bonus e se la vedranno contro l'Aso invece dovranno marcare il centrocampo del Verona e quindi eviterei anche loro due per il resto regola del 72 quindi meglio Amian e Ampadu rispetto a Nicolau resa fa un esterno che alla fantamedia del 5,38 lo evito sinceramente ho messo a Gudelo in verde come consigliato perché? perché visto che lo Spezia segnerà su giocata individuale solitamente a Gudelo una giornata barra due durante l'anno fa il fenomeno potrebbe essere questa la giornata potreste pensare di schierarlo e di prendere un suo bonus attacco verde e Zolano una fantamedia mostruosa in questo mese si schierano Shomuro per quanto riguarda il Verona Faraone non è rientrato bene fantamedia del 5 aspetterei qualche prestazione più esaltante per metterlo in campo centrocampo con Tamez e Duda che non hanno fatto benissimo in questa partita arbitra Doveri che non è che dia tantissimi rigori quindi Tamez non lo andrei a schierare o almeno non è la mia prima scelta di giornata in attacco un gonghe va abbastanza bene schierarlo che è in ballottaggio con Braff quindi meglio un gonghe Gaisha in vantaggio con Lasagna se proprio deve scegliere meglio Gaisha gran colpo di testa contro la Fiorentina è andata male ma il ragazzo c'è potresti pensare di schierarli per lo Spezia non ci saranno Zetto il bastone Mutigny e Zurkowski per il Perona mancheranno Ceccarini Russic Veloso Sulemana Giuri Cerri tutti infortunati un'ecatombe Sondora Salernitana Samp Debole difendersi dai contropiedi Salernitana forte nei contropiedi attenzione quindi una partita bloccata dove la Samp prende il contropiede duelle aere la Samp è forte ma la Salernitana è forte nel difendersi dai calci piazzati quindi gol su calcio piazzato la Samp non lo vedo sinceramente Samp che è debole in difendersi d'attacchi sulle fasce anche la Salernitana è debole in difendersi d'attacchi sulle fasce quindi attenzione alle fasce Samp che è debole in difendersi dai passaggi filtranti la Salernitana è debole in difendersi dai giocatori di qualità ma mancherà il giocatore di qualità più di qualità della Samp che è Gabbiadini che è squalificato dunque ho messo Sabiri come giocatore di qualità della Samp mentre ho messo Bumbun Piont e che a me oh ragazzi a me contro il Monza è piaciuto da morire è vero che si è mangiato una quantità industriale di gol ma c'era sempre lì sull'azione tutti i gol sono transitati da una sua giocata Piontek in questo momento in forma Paolo Sosa lo ama calcisticamente da morire quindi Piontek potrebbe essere una partita nella quale andrà a fare benissimo non ci saranno rigori arbitra massa che di rigore non è dato ma da un botto di cartellini gialli andiamo a vedere i giocatori per il dettaglio dicevano ci sarà Gabbiadini squalificato non ci saranno Conti, Murillo, Gunter, Giurici Cepussetto per la Samp non ci saranno Fazio e Trost e Kong per la Salernitana le quote parlano vittoria Samp Under 2,5 non sono d'accordo sono d'accordo sull'Under 2,5 ma vedo più una vittoria della Salernitana che sinceramente nell'ultima partita mi ha convinto dunque vedo il clean sheet per il portiere della Salernitana poi chi sarà boh lo andremo a vedere nella live del prepartito dove avremo delle notizie più sicure di là Audero secondo me un gol lo prende quindi al massimo mettetelo in ballottaggio comunque sia la Samp che deve fare la partita quindi contro Piede Salernitana ci può stare bene Bumbun Piontek bene Dia che ritorna e bene Candreva per il resto regola del 72 do fiducia a Sabiri per la giocata di qualità difesa dove Augello ha fatto discretamente bene questo mese così come Zanoli non posso dire lo stesso di Nuitink Amione e Murru centrocampo dove Winks ha fatto benino ma bonus ne porta pochi anche qui senza fatto male e bonus ne porta pochi anche lui Rincon non porta niente ha fatto pure peggio quindi eviterei Rincon assolutamente Leri fantamide del 16-17 in questo mese attacco che non andrei a schierare la Samp perché manca sinceramente il migliore che è Gabbiadini la domanda che mi chiedo io il Montevago della sosta campionato che segnava tre gol amichevole che fine ha fatto? Salernitana la difesa non dovrebbe subire grandissimi rischi ma non è cambiaretto benissimo in questo mese quindi al massimo mettetele in ballottaggio Mazzocchi è rientrato discretamente bene 6 e mezzo potreste pensare di schierarlo così come Candreva in questo mese molto bene 7-38 in fantamide molto bene così anche Coulibaly 6-75 Cernigoi si è conquistato il posto a titolare giocatore che tira molto dalla distanza ma la Samp non prende gol dalla distanza ci vai come l'ha preso Luis Alberto la scorsa settimana vero ma solitamente non ne prende gol dalla distanza e ne prende tutte le domeniche la bomba da 80 metri su ultime parole famose poi ne parleremo nel prossimo nel prossimo video Nicolussi Caviglia e Villena lì eviterei per il resto in attacco Piontex Bonazzoni e Diassi Inter Lecce partita rognosissima perché l'Inter non è che sia informissima se non che dopo la sconfitta col Bologno ovviamente deve avere una reazione forte e dall'altra parte troviamo un Lecce granitico con la ritrovata punta di Francesco che affianca a Strepezza e ricrea questa squadra meccanicamente perfetta questa difesa solida questo contropiede fluido sulle fasce con il cross in mezzo per Colombo oppure con lo sfondamento appunto di Di Francesco e Strepezza se non che dicevo mancherà colui che regge un pochino tutta quanta la baracca granitica che è Baschirotto quindi sfida che secondo me pende dalla parte dell'Inter anche i bookmaker dicono una vittoria in Inter over 2,5 e mi trovano d'accordo Inter che non avrà Correa per il Lecce appunto disqualificato Baschirotto e Termaco e Pongrasic non ci saranno dunque difesa assolutamente da inventare per il Lecce Inter forte nei passaggi filtranti Lecce debolo nel difendersi da passaggi filtranti quindi gol sul passaggio filtrante ci sta Inter forte nei due LR e Lecce debolo nei due LR e mancherà poi il più forte nei due LR e manca Baschirotto quindi gol su colpo di testa ci sta dell'Inter Inter debolo nel difendersi si chiude e riesce a chiudersi con Tuglia e un TT e poi parte in contropiede con Di Francesco e Strefezza può far male all'Inter Inter che è poco aggressiva Lecce è molto aggressivo e anche questa potrebbe essere una chiave di svolta della partita per l'Inter io consiglio Dzeko secondo me in questa partita meglio di Lukaku per il Lecce consiglio Di Francesco perché anche se fantacalcisticamente non è il giocatore più appetibile di tutti abbiamo visto quanto Di Francesco sia fondamentale per il Lecce nella scorsa partita nella quale è mancato per squalifica nella quale il Lecce non è riuscito a fare il solito gioco spumeggiante in contropiede andiamo a vedere i giocatori più nei dettagli abbiamo già detto gli squalificati abbiamo già detto le quote parlano perché ero di là piuttosto che di qua allora Lecce per l'iconosco con gli esterni alti difesa dell'Inter a rischio contropiedi e di un gol dunque meglio gli esterni di centrocampo per quanto riguarda i difensori dell'Inter dunque d'Armian Di Marco Gossens e Dampris piuttosto che centrali Acerbi e Bastoni piuttosto che Skriniar e De Vrij anche perché tra tutti questi l'unico che ha una sufficienza piena è Bastoni quindi magari mettete al massimo in ballottaggio centrocampo dove andrà a schierare i tre migliori dell'Inter Mkhitaryan Cernanogolo e Barella su Brozovic qualche dubbio ce l'ho anche perché il Lecce in questo mese è un centrocampo che è assolutamente in forma guardate le fantamedie del mese Jurman Blin e Gonzalez ampiamente sopra il 6 non parliamo di strefezza fantamedia del 7 ovviamente senza Baschirotto l'ho già detto eviterei tutta quanta la difesa del Lecce centrocampo dove metterei in ballottaggio appunto Jurman, Blin e Gonzalez eviterei invece Oden a Schilzan e Malè attacco eviterei Colombo Di Francesco mettetelo in ballottaggio Sisè mettetelo in ballottaggio attacco dell'Inter Lautano Martinez assolutamente da schierare Dzeko secondo me vincerà il ballottaggio con Lukaku assolutamente da schierare sul Lukaku ho delle perplessità ma arbitra Vanganiello che di rigori ne dà e quindi attenzione al rigore di Lukaku e andiamo ora al big match Roma-Juve allora manco la volevo analizzare la partita vista ieri che vabbè Juve tra 0 ma anche perché poi quelle partite proprio pensate il 4-3 con il gol di De Sciglio Dio mio queste partite strane Roma-Juve e vabbè dicono la studio vabbè dai la studio comunque vediamo un po' allora guardate è bellissima sta cosa perché sono due squadre entrambe forti sui calci piazzati entrambe forti sui tiri da lontano entrambe molto forti nel difendersi sui calci piazzati entrambe due squadre che peccano in aggressività sono due squadre praticamente per quanto riguarda la conformazione delle due rose simili molto 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 simili infatti ho messo come due giocatori rappresentativi Smalling e Bremer per farvi capire un pochino come secondo me andrà la sfida andiamo a vedere cosa dicono i bookmaker le quote parlano la Roma è leggermente favorita in questa partita e la partita è da under 2,5 io pensavo il 3-0 Juve e invece e invece tutto porta 1-0 a 0 barra massimo proprio 1-1 o 0-1 o 1-0 perché lo 0-1 perché ne parliamo alla fine per la Roma non ci sarà Darbo per la Juventus non ci sarà Milic dunque formazioni pressoché al completo portieri che visto che la sfida tende verso lo 0-0 i patrisi ascesi sono ampiamente schierabili così come tutti quanti i difensori l'unico che mi lascia un pochino perplesso è Alexandro che non è che ha fatto benissimo in questo mese per adesso Danilo De Sciglio Bremer Mancini Ibagna Smalling Spinazzola tutti quanti con le fantamedie ampiamente sopra il 6 Carzo Baccellic per carità così come Zalensky che a me ieri non è piaciuto per niente sta proprio in involuzione totale assolutamente centrocampo dove Kostic e Rabiot hanno fatto un mese strepitoso dunque schierabili tutti e due secondo me più di Facioli Quadrato Chiesa Locatelli attenzione a Pogba che ieri è entrato secondo me bene non meritava il 6 secondo me meritava un 6 e mezzo attenzione a Pogba centrocampo alla Roma dove Matic Pellegrini e Guainaldum anche secondo me Guainaldum era entrato benissimo tra l'altro bellissima la cosa che durante la telecronaca di Cremonese Roma Guainaldum è stato anche ampiamente diciamo descritto dai telecronisti come Guainaldum che era entrato alla grandissima prestazione sontuosa di Guainaldum migliore in campo dopo Spinazzola mi trovo il 5 e mezzo come Radonich voti a cazzo settimana voti a cazzo voti buttati proprio a cazzo secondo me e vabbè un po' di polemica fatemela fare e dunque Guainaldum che voglio capire se sta sulle palle a quelle di fantacalcio.it oppure se magari è stata secondo me una svista questo 5 e mezzo di Guainaldum attacco dove l'ex Di Bala assolutamente è da schierare Abram solitamente con la Juventus fa bene quindi è da schierare eviterei Solbacken e il Gallo Belotti attacco la Juventus Di Maria e Blaovic assolutamente è da schierare perché Di Maria è assolutamente in forma come Di Bala Blaovic che alla Roma fa sempre male quindi è da schierare molto più di Ken secondo me ma perché questa sfida può finire 0-1 perché nella Juventus c'è un giocatore che quest'anno ha fatto cagare totalmente il peggior acquisto la Juventus del mercato estivo un giocatore che sicuramente non verrà riscattato un giocatore che guarda caso è ex di questa partita e la Roma sappiamo come sappia resuscitare gli zombie e gli ax e tutto questo in questa partita c'è un giocatore che rappresenta tutto questo ed è Paredes ora se questa partita finisse 0-1 con gol di Paredes io chiudo il canale io chiudo il canale vi giuro chiudo il canale e basta e basta e vado a fare il canale musicale come era una volta e vabbè andiamo vabbè basta non ne posso più l'anno scorso avevo detto questa partita schierate De Sciglio vi ricordate che la risolve De Sciglio e finì 3-4 per la Juventus con gol di De Sciglio io me lo sento il gol di Paredes io me lo sento il gol di Paredes io veramente spacco tutto spacco tutto Sassuolo Cremonese Sassuolo debone due le aeree così come la Cremonese Sassuolo forte nell'attaccare sulle fasce Cremonese è debole ma molto debole nel difendersi dai giocatori di qualità infatti ieri contro la Roma non c'è avuto problemi infatti perché in gioco di qualità ieri ne ce ne sia stata tantissima Sassuolo forte nell'attuare la trappola del fuorigioco Cremonese debone nel difendersi dai contropiedi Sassuolo debone nel evitare errore individuale Cremonese forte nei tiri allontano dunque non c'entra praticamente niente se non un attacco sulle fasce con i giocatori di qualità del Sassuolo che però avrà Berardi squalificato attenzione dovrà giocare Bairami in quella zona Bairami secondo me sfida da Under 2,5 andremo poi a vedere cosa dicono le quote Laurientè come giocatore simbolo di questa sfida secondo me per quanto riguarda il Sassuolo dall'altra parte un Valeri che fa sempre assolutamente 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 bene andiamo a vedere i giocatori fino al dettaglio le quote parlano Vittoria Sassuolo e hanno le stesse quote Under e Over 2,5 quindi anche i bookmaker non ci capiscono praticamente disqualificato toglie l'infortunato per la Cremonese e Ferrari disqualificato partita stranissima il Sassuolo è favorito da bookmaker come già detto ma quanti gol che tipo di partita non lo sa nessuno l'unico gol che mi esce a me appunto è quello dalle facce del Sassuolo dove Bairami da un lato e Laurente dall'altro potrebbero averla meglio su Vasquez e Aivu quindi consigliati Bairami e Laurente e sconsigliati Vasquez e Aivu sono curioso tra l'altro di vedere Bairami dal lato di Berardi per il resto mi baso mi baso ne sto intrecciando con la saliva aspettate con la regola del 72 sui portieri vedo il clean sheet dei consigli ma non ne sono sicuro non avendo capito bene la partita quindi al massimo mettete l'imballottaggio sia consigli che carne secchi più clean sheet però per me di consigli che di carne secchi difesa del Sassuolo secondo me meglio centrale è strano che io dica mettete in ballottaggio tre soldi e Erlich e invece fantameda del 6 nell'ultimo mese sembra che bene o male abbiano ritrovato la trebisonda meglio di Zortea e Rogerio perché? perché se la verranno con Valeri e Sernicola Valeri è in pumpamagna pazzesca in questo periodo Sernicola non tantissimo però Sernicola a me piace sempre probabilmente paga secondo me nella sua valutazione nel suo voto il fatto che Valeri nell'altra fascia faccia meglio e l'azione della cremonese sviluppi molto più nell'altra fascia piuttosto che in quella di Sernicola ma secondo me Sernicola un giocatore molto forte e molto sottovalutato centrocampo dove Matteo Serrique Frattesi e Bayrami li possiamo schierare tutti e tre molto meglio di Lopez Obyang Torsved non gioca mai quando gioca segna non so fate come volete schierate o non schierate non lo so in attacco molto meglio la rente secondo me di De Frelle e Pinamonti che io non andrei a schierare anche perché questo mese hanno fatto abbastanza cagare entrambi centrocampo della cremonese molto fisico con Ballardini che non porta bonus attenzione a Benassi l'unico che vi dico mettete in ballottaggio dovrebbe partire titolare in attacco Saju sta vivendo un momento di assoluta illuminazione divina quindi potreste pensare di schierarlo non so in quanti di voi ce l'hanno ma potreste pensare di schierarlo Ciofani Mi partita da Rigori no arbitra Furnò quindi non lo so Felix ieri non è che mi sia piaciuto tantissimo secondo me è meglio da schierare Occhereche ma anche Occhereche ieri non è che mi abbia impressionato al massimo mettetelo in ballottaggio e concludiamo con il posticipo Torino-Bologna e qui la partita ancora più strana perché rientra Arnautovic e in questa partita Arnautovic giocherà non giocherà Orsolini subirà ritorno a Arnautovic pure se ne sbatterà le palle sarà l'Orsolini solito vedremo i giocatori nel dettaglio nel frattempo Torino che è forte nell'attaccare a sinistra e Bologna è debolo nel difendersi attacchi sulle facce quindi della sinistra il Torino può far male infatti ho messo voi voda come giocatore più rappresentativo Torino che però è debolo evitare l'errore individuale abbiamo visto ieri che baccate che hanno fatto e Bologna che è forte in contropiede quindi attenzione al contropiede del Bologna abbiamo visto come Orsolini se li giostri bene molto bene i contropiedi quindi Orsolini per il Bologna possesso palla due squadre molto forti il Torino ama il possesso palla nella metà campo avversale il Bologna possesso palla nella sua metà campo quindi attenzione a qualche errore magari per quanto riguarda il centrocampo del Bologna che però in questo mese sembra anch'esso illuminato da una luce stellare due l'eri scarso il Torino molto scarso il Bologna quindi il gol su colpo di testa sinceramente non lo vedo da nessuna delle due parti andiamo a vedere i giocatori qui nel dettaglio le quote parlano Torino favorito partita da Under due e mezzo allora 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 attacco sinistro del Torino Voivoda Caramò schierabili Sanabria schierabile perché va a prendere magari l'assist di Voivoda al centro dell'area Miranciuk gioca a destra ma lo vogliamo lasciare fuori Miranciuk si schiera la difesa del Torino si può schierare guardate la fantamedia di Buongiorno guardate la fantamedia dei Schurz guardate la fantamedia dei Singo e quindi magari Gigi o Laina mettete l'imballottaggio Rodriguez e a dopo li eviterei Radonici che famo non so non credo che giocherà questa partita Milinkovic Savic dici perché se il Torino è favorito perché se magari vede una partita da 1 a 1 da 1 a 0 per il Torino Milinkovic Savic Cini e Skorupski si e perché guardate le fantamedia Milinkovic Savic 4 a 38 Skorupski 6 a 38 è più di un mese che Skorupski è il miglior portiere della Serie A Skorupski in questo momento non si può lasciare in panchina per quanto riguarda il Bologna difesa posce assolutamente si da schierare 7 a 25 dei fantamedia per quanto riguarda il resto della difesa è strano vedere come il Bologna che sia una delle formazioni migliori della Serie A dell'ultimo mese abbia una difesa che non riesce a raggiungere il 6 soltanto in posh supera il 6 ampiamente supera il 6 il resto non nessuno supera il 6 centrocampo dove Orsolini assolutamente da schierare Soriano da schierare che si sta piano piano riprendendo scouten Ferguson e Dominguez metteteli al massimo in ballottaggio possono portarvi un mezzo punto in più magari utile per fare 72 attacco forse torna Arnautovic e forse gioca la prima punta ora Arnautovic lo schieriamo oppure no visto che ieri il Torino ha sofferto molto più altri giocatori della Juventus piuttosto che il pennellone davanti ossia Vlaovic si conclude qui questo video su Canta Consigli per la 25esima giornata con il dubbio Arnautovic ci vediamo domani su Instagram Lorenzo Cantarini official con l'analisi degli arbitri completa le statistiche e le curiosità della Serie A e in più la regola del 72 per tutte quante le squadre della Serie A perché oggi non sono riuscito a fare l'analisi dei dati poi venerdì la live alle 14.30 su TV Play Fanta TV Play venerdì ore 19.30 la Canta Live del per partita qui sul mio canale YouTube e nella chat telegram i risultati esatti di tutte quante le partite secondo il Canta per andare a fare quel giochino di scommettere una piccola somma in ogni risultato esatto per riuscire a prendere un grosso gruzzolo nel futuro che cazzo stai dicendo nel frattempo un saluto dal secondo divano più famoso del web e si è capito la battuta sei uno sozzone poi vi ricordo sabato 25 maggio a Roma campo Roma 6 Fanta YouTubers calcio a 5 l'evento più bello dell'universo what's on the menu well that depends on what you want we can continue oh it's the same old shit you got we can switch it up and get you something worth the way open the kitchen up so we can all participate what's on the menu and get you something